Allora, Presidenti, Presidenti, 7 luglio 2009, notturno ufficiale dell'MTB Fan, nonché inaugurazione di una nuova presenza, la cara Tele, che oltre ad uscire per la prima volta con noi inaugura la sua nuova FRV, Patrizia già si preoccupa, tremo, tremo Patrizia, ha detto che Adele deve raccogliere il suo testimone, no, non ci tengo, allora niente, adesso ci inoltriamo nel Parco San Michele, la temperatura, la temperatura è ottimale, a quanti gradi stiamo? Ehi, va bene, quanti gradi, questo scuro è qua. Presidente, a cosa mi dici? Sarà da piacevole, potremmo arrivare fino ad Acerno, vediamo un po' Agnese, Adele, anzi Adele, che cosa ha nelle gambe e ci regoliamo. E ci regoliamo di conseguenza. L'ingegnere cosa dice? No, io dico che ci riuscirò ad arrivare ad Acerno. Va bene. E se Adele ha qualche problema, adesso, poi, 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 poi. Allora, questo video andrà su YouTube domattina, ragazzi. Facciamo vedere il viso di Graziano, con il viso di Graziano, come faccio con Alberto, possiamo aiutere. Vai Adele, vai. Saranno i primi, ricordatevi. Vai. Vai, fai vedere, ti sto inquadrando, vai Adele. Ricorda gli amici a casa che ci troviamo nel Parco San Michele. Stiamo facendo una splendida notturna. Peppe, che dici? Troppo bello il Parco di Notte. E con l'aso di Peppe possiamo chiudere. Si sentono le uccelli capizzolano. Capizzolano. Allora, ecco i ragazzi che stanno arrivando e stanno per affrontare una bella rampa al 30%. Davanti il vecchio presidente a seguire. Chi è questo fulmine? La vecchia vende. Chi è questo fulmine? Ah, la vecchia Patrizia, sì. Ormai sostituita dalla nuova leva. Chi è questo che arranca? Ma sì, è lui, l'ingegnere. No, ingegnere. Non bene, non lo sa. Lo tagliamo, lo tagliamo. Lo tagliamo, per la cronaca, visto che non si vede bene, l'ingegnere è sceso a 10 metri dalla fine. Vediamo Peppe. Peppe, la chat, che ce la fa. Sì, dai, eccolo qua, ce l'ha fatta. Adele, Adele, bariamo. Sta federando fino alla fine, Adele. Lo tagliamo, sto fulmine, non lo facciamo la rega. Vedi che questa è dura, questa è stata fulmine. Vediamo un po'. Adele, ma quale maestro ti sei scelto? Io non lo so, guarda che maestro, guarda un po'. Ma io ti voglio una cazzica zachea, allora. E io ci ho perso l'avviato, l'ho ricevuto per me, via. Adele, mi è noto, l'ho. Un vlog, classico. Ragazzi, YouTube è mondiale, parliamo italiano, e che cazzo? Questo? Eh, lo dobbiamo, lo dobbiamo sticcio. No, questo qua, per chiaprire. Devi schiacciare il bottone. Aspetta, che ci vuole? E' bassa. O' mini tools. Bass, in cielo si è aperto. Graziano. Il maestro Graziano che insegna alla ragazza come fare tutti i segreti, tutte le tecniche. Una specifiche però, tutte le tecniche di casa. Ah beh, per andare in bicicletta. Vieni, Grazia, stringiti. E' implicito. No, e che fa? Una forma, una specie di... A farti nella famiglia delle lucertole. E' lì, come la parte, una cosa... No, non è, perché sei scelto? Non è la famiglia, non è la famiglia. No, non è la famiglia, non è la famiglia. L'orbiettino. Guarda quanto è bello, Patry. Non è un serpente? Oh mamma, che... Non è un serpente. E che cos'è? E' l'orbiettino. E' tipo una lucertola. Per me è una vipera. Eh, sono tutte vipera per te. Ma la vita in mano. No, 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 no. No, 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 no. Lascia sta, che la spaventia. Lascia sta. Ma questa dovrebbe avere pure le zampette. La buttiamo? Lascia sta, va. Adele, dici un po'. Svelaci le tue intenzioni. Le mie intenzioni di divertirmi e di farmi le passeggiate. Le passeggiate? Questa domenica spuca alla partenza dei miei olofizierci. Io ho sempre 30 anni, non sono una ragazzina. Capirai, è che mi stai offendendo a questo punto che ne ho due di te. I maschi comunque sono più forti solitamente. Ma quando mai? Ma c'è Patrizia che ha sfatato alla grande questo mito del superuomo. Avrei modo di ricrederti, vabbè, va bene. Ecco l'immagine di Graziano, il terzo video. Iniziamo questo video con la bellissima immagine di una luna piena. Il richiamo della foresta di Mimmo, fallo tu. E' troppo forte che l'ho filmato in coppa a Youtube. Perché giusto lì che faccio... Graziano. Che faccio... Allora faccio Mimmo e faccio... Faccio... Che cazzo l'animale è? Non so, in Italia è qua. Penso che si sentirà anche in questo. Troppo bello però. Mamma ragà, panorama fantastico, fantastico. Peccato per gli amici a casa che non penso vedranno molto. Ma sai che ci stiamo... Che roba è? Infierisce? Sono partecipato. No, no. Devo mettere il dito nella piaga perché hanno soffrì. Infatti io sto tentando di far vedere qualcosa ma sicuramente non si vedrà niente. E' chi è? E' un brabibbi, lui lo sta sotto a me. Ah, un buon arbori. Poveri. Va bene questa volta con l'immagine... Nooo... Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Con l'immagine di Patrizia possiamo chiudere. Un saluto Patrizia. Ciao ragazzi. Comunque Adele ha inaugurato anche i gomiti eh. Facciamo vedere la prima caduta di Adele con la bici nuova per giunta. Eeeh... E' completato, sto a posto come inaugurazione. Quando ero piccolino dicevano non ti preoccupare che quando ti spusi tu è passato. Esatto. E quindi dico la stessa cosa. C'è una luna piena. Luna piena. Luna rossa... Come fai la canzone? Ma parlete. Ma io sono l'unice e non beca a te. Ma non ci sta nessuna. E' dal parco di San Michele. E' dall'MTB Fan. E' da Adele, Patrizia, Piero for Presidente. Peppa Chat. L'ingegnere. E' Graziano. E' il grande Romeo. E' Romeo. Un saluto a tutti quanti. Alla prossima. Alla prossima avventura. Io ho veng parachute. ma sucking, Grazie a tutti